Capitolo 34. Pinocchio, gettato in mare, è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima, ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane. Dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua, il compratore disse discorrendo da sé solo «A quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bella e affogato, ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo tamburo». E cominciò a tirare la fune con la quale lo aveva legato per una gamba, e tira, 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 alla fine vide apparire al fior d'acqua, indovinate? Invece di un ciuchino morto vide apparire al fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla. Vedendo quel burattino di legno, il povero uomo crede di sognare e rimase lì intontito, a bocca aperta e con gli occhi fuori dalla testa. E avutosi un poco dal suo primo stupore, disse piangendo e balbettando, «E il ciuchino che ho gettato in mare dov'è? Quel ciuchino sono io!» rispose il burattino ridendo. «Tu? Io? Ah, mariuolo! Pretenderesti forse burlarti di me? Burlarmi di voi, tutt'altro caro padrone, io vi parlo sul serio. Ma come mai tu, che poco tempo fa eri un ciuchino, ora stando nell'acqua sei diventato un burattino di legno? Sarai effetto dell'acqua nel mare, il mare ne fa di questi scherzi. Bada burattino, bada! Non credere di divertirti alle mie spalle, guai a te se mi scappa la pazienza! Ebbene, padrone, volete sapere tutta la vera storia? Scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò! Quel buon pasticcione del compratore, curioso di conoscere la vera storia, gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato. E allora Pinocchio, trovandosi libro come un uccello nell'aria, prese a dirgli così. Sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi, ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo, come in questo mondo ce n'è tanti. Se non che per la mia poca voglia di studiare e per dare retta ai cattivi compagni, scappai di casa. E un bel giorno, svegliandomi, mi trovai cambiato in un somaro con tanto d'orecchi e con tanto di coda. Che vergogna fu quella per me! Una vergogna, caro padrone, che Sant'Antonio Benedetto non la faccia provare neppure a voi! Portato a vendere sul mercato degli asini, fui comprato dal direttore di una compagnia equestre, il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi. Ma una sera, durante lo spettacolo, feci in teatro una brutta cascata, rimasi zoppo da tutte e due le gambe. Allora il direttore, non sapendo che cosa farsi di un asino zoppo, mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato. Purtroppo, e ti ho pagato venti soldi. E ora, chi mi rende i miei poveri venti soldi? E perché mi avete comprato? Voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo? Un tamburo! Purtroppo, e ora dove troverò un'altra pelle? Non vi date la disperazione, padrone? Dei ciocchini ce n'è tanti in questo mondo. Dimmi, monello impertinente, e la tua storia finisce qui? No, rispose Burattino. Ci sono altre due parole, e poi è finita. Dopo avermi comprato, mi avete condotto in questo luogo per uccidermi. Ma poi, cedendo a un sentimento pietoso d'umanità, avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo, e io ve ne serberò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata. E chi è questa fata? È la mia mamma, la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro figli, e non li perdono mai d'occhio, e li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi, per le loro scapataggini e per i loro cattivi comportamenti, meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi. Dicevo dunque, che la buona fata, appena mi vide in pericolo di affogare, mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un ciuchino bello e morto, cominciarono a mangiarmi. E che bocconi che facevano! Non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi. Chi mi mangiò gli orecchi, chi mi mangiò il muso, chi il collo e chi la criniera, chi la pelle delle zampe, chi la pelliccia della schiena. E fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda. Da oggi in poi, disse il compratore inorridito, faccio giuro di non assaggiare più carne di pesce. Mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciucco. Io la penso come voi, replicò il burattino ridendo. Del resto, dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi, arrivarono, come è naturale, all'osso. O per dir meglio, arrivarono al legno, perché, come vedete, io sono fatto di legno durissimo. Ma dopo dati i primi morsi, quei pesci e ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e, nauseati da questo cibo indigesto, se ne andarono chi in qua, chi in là, senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie. Ed eccovi raccontato come, qualmente voi, tirando sulla fune, avete trovato un burattino vivo invece di un ciuchino morto. Io mi rido della tua storia, gridò il compratore imbestialito. Io so che ho speso venti soldi per comprarti e rivolgo i miei quattrini. Sai che cosa farò? Ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto. Rivendetemi pure, io sono contento, disse Pinocchio. Ma nel dire così fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua e nuotando allegramente e allontanandosi dalla spiaggia, gridava al povero compratore Addio padrone! Se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo, ricordatevi di me! E poi rideva e seguitava a nuotare e dopo un poco, rivoltandosi indietro, urlava più forte Addio padrone! Se avete bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto, ricordatevi di me! Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più, ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dell'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava all'avventura, vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco e su, in cima allo scoglio, una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. La cosa più singolare era questa che la lana della caprettina invece di essere bianca o nera o pallata di due colori come quella delle altre capre era invece turchina ma di un color turchino sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina. Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte raddoppiando di forza e di energia si die a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscire fuori dall'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? Quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'attila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro cercò di scansarlo di cambiare strada cercò di fuggire ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta affrettati Pinocchio per carità gridava abbelando la bella caprettina e Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia col petto con le gambe e coi piedi corri Pinocchio perché il mostro si avvicina e Pinocchio raccogliendo tutte le sue forze raddoppiava di lena nella corsa vada Pinocchio il mostro ti raggiunge eccolo eccolo affrettati per carità o sei perduto e Pinocchio a nuotar più lesto che mai e via e via e via comanderebbe una palla di fucile e già era presso allo scoglio e già la caprettina spenzolandosi tutta sul mare gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarla a uscire dall'acqua ma oramai era tardi il mostro lo aveva raggiunto il mostro tirando il fiato a sé si bebbe il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina e l'onghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio cascando giù in corpo al pesce cane batte un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora quando ritornò in sé da quello sbigottimento non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro stetti in ascolto e non sentì nessun rumore solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento dal principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana Pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un poco di coraggio ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino allora cominciò a piangere a strillare e piangendo diceva aiuto aiuto oh povero me non c'è nessuno che venga a salvarmi chi vuoi che ti salvi disgraziato disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata chi è che parla così domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento sono io sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te e tu che pesce sei io non ho a che veder nulla quei pesci io sono un burattino e allora se non sei un pesce perché ti sei fatto inghiottire dal mostro non sono io che mi son fatto inghiottire gli è lui che mi ha inghiottito ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due ma io non voglio essere digerito urlò Pinocchio ricominciando a piangere eppure io vorrei essere digerito soggiunse il tonno ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio scioccherie gridò Pinocchio la mia è un'opinione replicò il tonno e le opinioni come dicono i tonni politici vanno rispettate insomma io voglio andarmene di qui io voglio fuggire fuggiri se ti riesce è molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti domandò il burattino figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda nel tempo che facevano questa conversazione al buio parve a Pinocchio di vedere lontano lontano una specie di chiarore che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano disse Pinocchio sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito voglio andare a trovarlo non potrebbe darsi il caso che fosse quel vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire io te l'auguro di cuore caro burattino addio tonno addio burattino e buona fortuna dove ci rivedremo chi lo sa è meglio non pensarci neppure capitolo 35 Pinocchio ritrova in corpo il pesce cane chi ritrova leggete questo capitolo e lo saprete Pinocchio appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane avviandosi un passo dietro l'altro verso quel piccolo chiarore che si vedeva balluginare lontano lontano e nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzangra d'acqua grassa e sdrucciolona e quell'acqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva ad essere a mezza quaresima e più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto finché cammina cammina alla fine arrivò e quando fu arrivato che cosa trovò? ve lo do a indovinare in mille trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduta a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi ma tanto vivi che alle volte mentre li mangiava gli scappavano perfino di bocca a quella vista il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande e così inaspettata che ci mancò un ette non cadesse in delirio voleva ridere voleva piangere voleva dire un monte di cose e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare oh bambino mio finalmente vi ho ritrovato ora non vi lascio più mai più mai più dunque gli occhi mi dicono il vero replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi dunque tu sei proprio il mio caro Pinocchio sì sì sono io proprio io e voi mi avete di già perdonato non è vero oh bambino mio come siete buono e pensare che io invece oh ma se sapeste quante disgrazie mi sono piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso figuratevi che il giorno che voi povero bambino col vendere la vostra casacca mi comprasse l'abecedario per andare a scuola io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché li cocessi il montone arrosto che fu quello poi che mi dette cinque monete d'oro perché le portassi a voi ma io trovai la volpe e il gatto che mi condossero all'osteria del gambero rosso dove mangiarono come lupi e partito solo di notte incontrò gli assassini che si messero a corrermi dietro e io via e loro dietro e io via e loro sempre dietro e io via finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande dove che la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina e i medici quando mebbero visitato dissero subito se non è morto è segno che è sempre vivo e allora mi scappò detto una bugia e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera motivo per cui andai con la volpe e il gatto a sotterrare le quattro monete d'oro che una l'avevo spesa all'osteria e il pappagallo si messe a ridere e viceversa di duemila monete non trovai più nulla la quale il giudice quando seppe che ero stato derubato mi fece subito mettere in prigione per dare una soddisfazione ai ladri di dove col venire via vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliola e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare e il serpente con la coda che gli fumava cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto e così ritornai alla casa della bella bambina che era morta e il colombo vedendo che piangevo mi disse ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchettina per venirti a cercare e io gli dissi oh se avessi l'aria anch'io e lui mi disse vuoi venire dal tuo babbo e io gli dissi magari ma chi mi ci porta e lui mi disse ti ci porto io e io gli dissi come e lui mi disse montami sulla groppa e così abbiamo volato tutta la notte e poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero c'è un pover uomo in quella barchetta che sta per affogare e io dal lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il cuore e vi feci segno di tornare alla spiaggia ti riconobbi anch'io disse Geppetto e sarei volentieri tornata alla spiaggia ma come fare il mare era grosso e un cavallone ma rovesciò la barca allora un orribile pesce cane che era lì vicino appena che mi ebbe visto nell'acqua corse subito verso di me e tirata fuori la lingua mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di Bologna e quant'è che siete chiuso qui dentro domandò Pinocchio da quel giorno in poi saranno oramai due anni due anni Pinocchio mio che mi sono parsi due secoli e come avete fatto a campare e dove avete trovata la candela e i fiammiferi per accenderla chi ve li ha dati ora ti racconterò tutto devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile i marinai si salvarono tutti ma il bastimento colò a fondo e il solito pesce cane che quel giorno aveva un appetito eccellente dopo aver inghiottito me inghiottì anche il bastimento come? lo inghiottì tutto in un boccone? domandò Pinocchio meravigliato tutto in un boccone e risputò solamente l'albero maestro perché gli era rimasto tra i denti come una lisca per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno di biscotto ossia di pane abbrustolito di bottiglie di vino d'uva secca di cascio di caffè di zucchero di candele esteariche e di scatole di fiammiferi di cera con tutta questa grazia di Dio ho potuto campare due anni ma oggi sono agli ultimi sgoccioli oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta e dopo? e dopo caro mio rimarremo tutte e due al buio allora bambino mio disse Pinocchio non c'è tempo da perdere bisogna pensare subito a fuggire a fuggire? e come? scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare tu parli bene ma io caro Pinocchio non so a nuotare e che importa? voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io che sono un buon notatore vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia illusioni ragazzo mio replicò Geppetto scotendo il capo e sorridendo malinconicamente ti pare egli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa avere tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle? provatevi e vedrete a ogni modo se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme e senza dire altro Pinocchio prese in mano la candela e andando avanti per far lume disse al suo babbo venite dietro a me e non abbiate paura e così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro pensarono bene di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga ora bisogna sapere che il pesce cane essendo molto vecchio e soffrendo da asma e di palpitazione di cuore era costretto a dormire a bocca aperta per cui Pinocchio affacciandosi al principio della gola e guardando in su poter vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna questo è il vero momento di scappare bisbigliò allora voltandosi al suo babbo il pesce cane dorme come un ghiro il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno venite dunque babbino e tra me e fra poco saremo salvi detto fatto salirono su per la gola del mostro marino e arrivati in quell'immensa bocca cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone di un giardino e già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare quando sul più bello il pesce cane starnutì e nello starnutire è detto uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro nel grandurto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio e ora? domandò Pinocchio facendosi serio ora ragazzo mio siamo belli perduti perché perduti? datemi una mano babbino e badate di non sdrucciolare dove mi conduci? dobbiamo ritentare la fuga venite con me e non abbiate paura ciò detto Pinocchio prese il suo babbo per la mano e camminando sempre in punta di piedi risalirono insieme su per la gola del mostro poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti prima però di fare il gran salto il burattino disse al suo babbo montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte al resto ci penso io appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo Pinocchio sicurissimo del fatto suo si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare il mare era tranquillo come un olio la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pesce cane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non lo avrebbe svegliato nemmeno una cannonata abbiamo letto Le avventure di Pinocchio storia di un burattino di Carlo Collodi editore Giunti grazie a tutti Grazie a tutti.